Telespettatori di Video33, un cordiale saluto dalla redazione e dalla regia. Dunque, come avete sentito dai titoli, nel primo pomeriggio si è spento il presidente merito Francesco Cossiga, la morte dovuta a un arresto cardiocircolatorio. Grande conoscitore della realtà altoatesina, tre anni fa aveva proposto di riconoscere ai cittadini sudtirolesi il diritto all'autodeterminazione. Vediamo servizio. Francesco Cossiga si è spento alle 13.18 alla Policlinico Gemelli di Roma, dove era ricoverato da nove giorni. Lo scorso 26 luglio aveva compiuto 82 anni. Presidente merito della Repubblica, Cossiga è stato uno degli uomini politici italiani più longevi, controversi e prestigiosi del dopoguerra. Ha ricoperto tutti gli incarichi di governo, da ministro dell'interno a presidente del Consiglio. È stato presidente del Senato e anche il più giovane è votato presidente della Repubblica dal 1985 al 1992. Soprannominato il picconatore, l'ex presidente tre anni fa aveva creato non poco scalpore con la sua proposta di riconoscere ai cittadini sudtirolesi il diritto all'autodeterminazione con un referendum che avrebbe potuto risolvere una volta per tutte ogni polemica sulla questione altoatesina. Ecco sulla scomparsa di Cossiga le parole di cordoglio del sindaco di Bolzano. Io credo che in questo momento possiamo soltanto ricordarlo per quello che ci ha lasciato che è tantissimo, una persona di grande rigore e morale, una persona che aveva la straordinaria capacità di dire sempre quello che pensava senza paura delle conseguenze, una persona che è stata quando c'era bisogno di esserlo estremamente dura ma che è stata anche estremamente capace di comprendere le ragioni degli altri, una persona che qui da noi non ha avuto paura di dire anche andando controcorrente che c'è bisogno di lasciare alla popolazione dell'Alto Adige, del Sud Tirolo la possibilità di scegliersi il proprio destino. Grazie a Francesco Cossiga per esserci stato che riposi in pace da parte nostra. I funerali dovrebbero tenersi in Sardegna in forma privata, probabilmente a Sassari, città natale della Presidente Merito. Oltre alle ultime volontà sulle esequie, Francesco Cossiga ha consegnato al segretario generale del Senato quattro lettere per le principali cariche dello Stato, i Presidenti di Repubblica, Senato, Camera e del Consiglio. Le missive del Presidente Merito, sigillate e custodite in un plico, sono già state inviate.